di me. Va bene, ti darò un passaggio, ma siediti, ok? Ci penso io a prendere le tue cose. Ho fatto un sogno simile al film che stavamo vedendo, era molto strano. Quale sogno hai fatto? Ecco, mi ricordo di te, il buio e poi mani fasciate. Non fa niente, era solo un sogno. Con me era di certo un bel sogno. Vieni qui, Ayaz, vieni, ti do uno schiaffo, vieni. Dai, togliamo la fascia. Appoggiati. Sei pronta? Io conosco un'altra cura per farti stare meglio il prima possibile. È miracolosa. Vuoi provare? Se rispondi di sì, non ti delubberò. Vuoi sapere il mio sogno di cosa? No, non fa niente. Va meglio? Invece ora? Essere sincera mi fa male anche qui sulla mia spalla sinistra. E poi dove? Poi anche qui sul collo. E poi dove? E sai, anche qui sulla bocca. Ok, vediamo. Mi dispiace per oggi. Non sarei dovuto venire. Scusami. Se ti ho offesa in qualche modo. È solo che... Oiku, di Derin non mi fido. Ho una strana sensazione su di lui. Aiasi, sappi che io non vorrei assolutamente lavorare con un uomo di cui non ti fidi. Purtroppo... Però non ho nessun'altra alternativa ora come ora. È la mia unica possibilità. Nessuno ha intenzione di darmi lavoro. Io devo necessariamente... Trovare una soluzione. E... Aiutare mia madre e mio fratello come posso. Hai ragione. Dai, mia madre mi aspetta. Oiku, ti metto i calzini. Dammi prima la gamba destra. La destra. Ok. Ok.